Inizieremo adesso proprio con gennaio 2010 con una manifestazione importante a Parma, con il patrocino dell'Università di Parma, dove presenteremo alcune novità e dove ci saranno dei relatori importanti a livello nazionale e internazionale, tra cui il dottor Rollet e il dottor Gabriele Galassini, che presenteranno alcune cose veramente molto interessanti, per cui richiamo l'attenzione degli interessati a prendere seriamente in considerazione questa manifestazione. Fine gennaio 2010 Parma, questo come evento culturale, il prossimo evento culturale, poi probabilmente riparteciperemo ancora ad altre manifestazioni durante l'anno. In quell'occasione speriamo di presentare alcune novità, tra cui un attacco in ceramica molto interessante, un'assoluta novità per il mercato, perché è una ceramica tradizionale come tipo di materiale, per cui con caratteristiche particolari, ma con un colore molto vicino al colore del vetro, per cui trasparente, senza essere però fragile, con uno slot in metallo. Probabilmente presenteremo anche dei nuovi attacchi in metallo, in tecniche tradizionali, per cui non attacchi particolarmente innovativi come filosofia, ma innovativi come caratteristiche di comfort per il paziente e altre piccole novità, come ad esempio uno spacer, un distanziatore, un prodottino semplice su cui però puntiamo molto.